una vita anticipazioni puntata di mercoledì 7 giovedì 8 febbraio 2018 anticipazioni puntata 413 di una vita di mercoledì 7 giovedì 8 febbraio 2018 fabiana e teresa riescono ad evitare l'incontro tra Ursula e Cayetana Lolita vede Felipe e Huertas intenti a discutere ne parla Trini Felipe rivela a Mauro che sta pensando di lasciare Huertas e infatti cerca di far pace con Celia promettendole di dedicarsi da ora in poi solo a lei Elvira Valverde rovina gli inviti alla festa di debutto ma convince Simone a coprirla di fronte al padre Arturo Rosina aiuta il colonnello con i preparativi per il party Mauro scopre che Fernando ha prenotato una cena a sorpresa per Teresa alla deliciosa Victor ha troppo lavoro un uomo di nome Julio vede che il ragazzo non sa come fare e si presenta da Maria Luisa chiedendo di poter lavorare lei subito lo assume come cameriere insieme ad altri due uomini per il banchetto del colonnello Valverde Cayetana dice a Teresa che ha la sensazione di conoscerla da tanto tempo inoltre ha un atteggiamento nei confronti della Sierra che risulta parecchio strano e le dice che vuole averla solo per lei da non perdere diventa fan della nostra pagina facebook su una vita ecco l'indirizzo https 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 allora iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni ecco l'indirizzo, http2.i-www.telegram.me-tvsoap. Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di una vita sono qui, le trame delle puntate, invece, sono qui. Anticipazioni puntate italiane trame puntate quotidiane 2018-02-06 Vittorio Rossani. Grazie per la visione!